il risultato finale è alla cavolo di... bla 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 la filettatura ho tentato di non verniciarla perché comunque poi potrebbe portare ostacolo ma bensì magari di scartavetrarla, adesso vediamo un po' perché comunque si ossida in queste parti comunque già ho visto che il disco già ancora prima di verniciarlo aveva delle frenature già era frenato ancora prima, c'è, vabbò, ripeto, strapieno di ruggine, la macchina è quella che è, ha i suoi anni, ha la sua età e la ruggine, boh, è così prova a farle in modo rudimentale, poi se è andato a un carrozziere mi avrebbe dato un sacco di soldi poi non è che ha solo questa rogna, e vabbò, fa cagare però, ciao ciao